Il leader dei 5 Stelle, qui do il benvenuto, il professor Giuseppe Conte. Buonasera. Buonasera, buonasera dottor Beldebio, buonasera a tutti gli spettatori. Senta Conte, lei è il leader più chiaramente contrario all'invio di armi per l'Ucraina. Se non arginiamo Putin, come possiamo sperare di fermarlo? Qual è la sua idea, la sua, tra virgolette, soluzione? Guardi, per la precisione io sicuramente sono molto, fermamente contrario a un escalation militare. Perché poi, per quanto riguarda gli aiuti, non ci siamo sottratti come Movimento 5 Stelle, ritenendo necessario, ovviamente, sostenere il popolo ucraino in questo esercizio di legittima difesa. E obiettivamente difendersi a mani nude non è una possibilità pratica. Ecco che allora siamo favorevoli al sostegno della popolazione, ma il nostro obiettivo costante, continuo, è lavorare perché si arrivi a una soluzione politica. L'escalation militare è una spirale assolutamente viziosa, drammatica, tragica, che può in qualsiasi momento defragare in un conflitto planetario. Questo lo dobbiamo assolutamente evitare. Per fare gli sforzi diplomatici, l'Italia in prima battuta, in prima fila, deve far di tutto per portare sia l'Ucraina che la Russia a un negoziato, un negoziato che fermi questa spirale. Senti, il ministro della difesa Guerini ha detto che l'Italia, cito, continuerà a supportare l'Ucraina anche con armi in grado di neutralizzare le postazioni da dove i russi bombardano. Questa è una dichiarazione molto precisa, non c'è bisogno di tante interpretazioni. Io voglio sapere cosa ne pensa lei. Guardi, quella espressione è un'espressione che appena l'ho letta dalle agenzie, l'abbiamo appresa da poco, mi ha molto preoccupato. Però, attenzione, vorrei dare anche atto, almeno che il ministro della difesa l'ha in parte corretta, perché presa, così come è stata formulata ed è stata diffusa, è una formulazione, un'espressione preoccupante, perché significa a questo punto che siamo disponibili anche a distruggere le postazioni russe e in territorio russo, cioè siamo disponibili ad assecondare un'escalation militare. Però voglio dare atto al ministro Guerini, che io non ero presente in commissione dove si è espresso, che ha fatto una precisazione che io ritengo assolutamente doverosa, e cioè che non intendeva, come dire, colpire le postazioni russe e il territorio russo. Però vede, al di là, adesso io non sono in condizione di interpretare il pensiero del ministro Guerini, però questo rende, pensateci bene, rende veramente necessario, urgente, quel che stiamo invocando da giorni, e cioè che il premier in particolare, oltre che il ministro della difesa e il premier Draghi, vengano in Parlamento in modo chiaro, si confrontino davanti alle aule parlamentari, dove ci sono i rappresentanti del popolo, dove tutto il popolo, ovviamente, attraverso i suoi parlamentari, può esercitare i poteri di controllo, di indirizzo. Noi abbiamo bisogno di avere un indirizzo politico. Si parla molto di armi, è chiaro che noi siamo contrari. come Movimento 5 Stelle, all'invio di armi sempre più letali, sempre più offensive, sempre più che possano aggravare queste scalecce militare. Però, attenzione, il tema vero è l'indirizzo politico. L'Italia sta partecipando nel quadro di alleanze a questi aiuti, ma con quale finalità, quali sono le posizioni che l'Italia fa valere con i propri alleati? Perché con i propri alleati bisogna, come dire, ragionare, confrontarsi... Ma questo non c'è dubbio. Però mi pare, francamente, Conte, che il Presidente Draghi abbia detto, a meno che non abbia cambiato idea, e questo io non lo so, a meno che il governo nel complesso non abbia cambiato idea, il Presidente Draghi ha quello che mi risulta, ma io non leggo nella mente di nessuno, quindi neanche in quella di Draghi, come credo neanche lei, e ad oggi ha sempre detto noi inviamo armi per sostenere la resistenza ucraina. Il che, voglio dire, non è che dà adito anche questo a molte interpretazioni. Le armi per sostenere vuol dire che io ti invio delle armi per aiutarti a difenderti dall'invasore. Punto. Però, guardi, a parte che, come lei ha precisato, qui non si tratta di interpretare la mente del primo ministro di turno, del Premier Draghi, ma qui si tratta di mettere nero su bianco dei passaggi, consegnarli alla chiarezza del confronto e del dibattito anche pubblico, chiarire le posizioni e metterle anche nero su bianco. Cioè, secondo lei... Scusi, scusa, l'interrompo, ma questo è un passaggio importante. Secondo lei, al momento attuale, non c'è una posizione chiara, cioè si fanno delle cose, ma manca una linea politica parlamentarmente condivisa? Questo è quello che mi vuol dire? Guardi, è un problema non solo di chiarezza interna nel nostro Paese, quindi di fronte al Parlamento, che è una premessa necessaria. È un problema poi anche di portare questa chiarezza a livello internazionale, perché a livello internazionale questa escalation noi la stiamo vivendo, ma con quale obiettivo? Mi spiego meglio. Lei sta sentendo parlare di negoziati? Ci sono negoziati in corso? C'è l'impegno necessario costante? H24, cioè giorno e notte per un obiettivo con una frustrazione politica? Io sono d'accordo che non ci sono, ma la questione che io ho posto anche l'altra volta all'inizio della trasmissione in un mio minuscolo editoriale, mi sono chiesto e le chiedo, ma chi dovrebbe essere questi mediatori? Perché per mediare, lei si ricorda quando ci furono gli accordi arabo-israeliani su Camp David, Oslo, eccetera, c'era un'America che si metteva lì e metteva accanto allo stesso tavolo e mediava, provò a fare delle mediazioni. Oggi chi deve fare questa mediazione? Guardi, in questo momento, a livello internazionale, abbiamo degli stati, dei governi garanti, tra cui anche l'Italia, che dovrebbe accompagnare questo negoziato. Questa formula dei garanti potrebbe essere una formula che può sicuramente indirizzare verso una soluzione negoziale questo conflitto. Ma io le parlo molto francamente, dottor Del Debbio, io non sono nella condizione di individuare qui a tavolino che i paesi garanti potranno assicurare questa attività di mediazione efficacemente. che sarà efficacemente in prima linea come sta facendo la Turchia. Se un ruolo può recitare anche la Cina che in questo momento è alla finestra molto interessata e sta seguendo il tutto con un attendismo interessato. Io, evidente che spetta nel mio ruolo di leader di una forza politica che ha ricevuto 11 milioni di voti agli italiani e di leader di una forza politica che è maggioranza relativa in Parlamento chiedere innanzitutto che dopo due mesi di attività bellica, di guerra, ci sia un confronto con il governo e il Parlamento per chiarire come il governo sta seguendo l'evoluzione di questo conflitto, cosa è cambiato dall'inizio di questo conflitto, come pensa di affrontare i passaggi successivi, quali posizioni porterà negli incontri? Immaginate, adesso ci sarà una visita importante del Premier Draghi a Washington. Ecco, l'Italia quale posizione porterà? Porterà e farà valere nei confronti di un importante alleato. Un passaggio, si preannuncia anche un passaggio a Kiev. Speriamo che non porti, che invece di portare una posizione negli Stati Uniti, il Presidente non porti la posizione degli Stati Uniti in Italia. Guardi, è inevitabile che il Premier Draghi confrontandosi con l'alleato statunitense riceverà delle chiare posizioni. Ecco perché è importante che porti delle chiare posizioni italiane. Lei l'ha chiesto al confronto in Parlamento? Ma l'ha chiesto ovviamente, io l'ho invocato come leader politico, ma è stato formalizzato perché ieri l'altro il capogruppo alla Camera Crippa del Movimento 5 Stelle ha formalizzato questa richiesta. Ma io spero che a questa richiesta si associino tutte le forze politiche perché è nell'interesse di tutte le forze politiche poter esprimere un indirizzo in Parlamento e quindi all'estito del confronto con il Governo. Guardi, sarà interessante anche per noi seguirlo e soprattutto per i cittadini perché le assicuro insomma, facendo il mio mestiere batto un po' di marciapiedi e francamente se dovessi dire che gli italiani hanno chiare le nostre posizioni direi una bugia. Come vede è assolutamente necessario chiarire nelle sedi ufficiali opportune qual è questa nostra posizione e soprattutto portarla poi ai livelli internazionali con forza, con un forte mandato anche del Parlamento quindi del popolo italiano. Grazie al leader dei 5 Stelle il professor Giuseppe Conte grazie molto e buon lavoro Grazie e buonasera a tutti.